422 candidati in corsa per un contratto a tempo determinato dalla durata di tre mesi nella polizia locale di Sulmona dopo un anno di stalo amministrativo legato alla ricostituzione della commissione giudicatrice e starà fissata la prova scritta preselettiva che si svolgerà il prossimo 4 giugno alle 12.30 presso il locale Lagomera lungo la strada provinciale morronese. Lo ha deciso la commissione preseduta la dirigente del quarto settore a Medeo Deramo e composta dalla dirigente del settore bilancio Filomena Sorrentino e Giuseppe Iaccozza, componenti, e da Stefania Spinosa, segretaria, tramite apposito avviso pubblico sulla homepage del sito istituzionale dell'ente. La prova avrà durata di un'ora, saranno somministrati ai candidati 30 acquisiti a risposta multipla. Per superare la fase preselettiva basterà ottenere un punteggio di 21 trentesimi. A sollecitare la riattivazione delle procedure concursuali era stato il consigliere Maroti Rabassi e riferimento all'organico della polizia locale che resta in affanno. Sono in servizio solo 16 agenti su una pianta organica che dovrebbe contenere 27 unità. Un altro agente, per effetto della quota 100, sarà collocato a riposo entro l'anno. Il concorso quindi non risolverà pienamente la carenza di personale, vista la durata del contratto di soli tre mesi a tempo determinato, ma sicuramente dalla manforte al corpo di polizia locale.